Buongiorno, buongiorno a tutti, a partire dalla Federazione Valdotena di Teatro Popolare, che vedo il benvenuto a questa sorella e che rappresenta la 37e edizione del 30e teatro. È già un poca d'anni che portano le pièce in patria. Quindi venivano sul palco, 29 compagnie, per 11 ore, a parte della settimana, fino a 21 settembre. Tra queste 29 compagnie, volevo remarcare tre compagnie di boccia. La pegna regolata, che tra le altre pagine, lo devono fare anche questa notte. Poi sono le pegnose che appena di Biona, che arriveranno a recettare il 2 avril. E le frippone di Valdotena, lui, si deve mai. Ogni mese, non c'è una compagnia di boccia che porta un pièce sul palco. È ancora un'altra notizia importante per la Federazione, che è la prima parte della nuova e delle compagnie che vuole fare parte della Federazione, che è la compagnie DAIAS, la cabala DAIAS. E quindi Alec, per il primo giro, viene a portare un pièce sul palco la prossima giornata, il 21 settembre. Voglio ancora approfittare per fare delle embargo, perché tutte le compagnie che fanno partire dalla Federazione ne manca già dove. La compagnie DAIAS e la compagnie DAIAS, che per l'engazzamento delle altre mani, hanno potuto partecipare al 30 attratto. Se no, tutte le compagnie della Federazione ne torneranno e vogliono partecipare a questa manifestazione. Che dire? L'anno passato, ne ho invito una compagnia di boccia, che è la pegna della battaglia, il piccio della battaglia. Ecco, c'è una compagnie che può partire dalla Federazione, ma è sempre importante avere delle boccia, dei bambini che si possono giocare per continuare a recitare e prendere un altro patto. Ecco, qui è un anno di mell'essose, c'è un anno di mell'essose, c'è ancora un anniversario importante per il campo. E quindi, la compagnie è un anno di mell'essose, è un anno di mell'essose. Cantante delle attività che riguarda la battaglia di Zemavella e la regolata dei gignons che devono avere il 30 avril. La battaglia, invece, reciterà il Senac. C'è un anno di mell'essose. E poi c'è una compagnie che ha fatto le gian, e la compagnie definisce come Diovo Devan e sarà più presente in questa manifestazione. E quindi, a parte, a presidere gian, me venne in Devan, la prima gian. La prima gian, è un ricordo di questa attrice che ha lavorato molto per il patto, per la recitazione in Val d'Urta, e che ha fatto il ragione dell'istituzione dei premio che lui, ha fatto il signore, ha fatto il Signor Alessio Cibetano, e ha fatto il franno per ricordare la memoria di Maggi Macchina. Quindi, a questo punto, a questo punto, mi mando al palco, M. Alexis Betten, per andare a doverte le premio, a questa tre compagnie, che è l'anno 2015, durante il printempo 2015, è stato valorizzato dal giurio dei componenti della federazione, per le criterio che abbiamo deciso di prendere in considerazione della qualità del pato, il ritmo della pièce, la recitation, l'originalità, senza dubbio, l'originalità della pièce, e quindi ho appriso tutta una serie di pièce, nemmeno, ho fatto un piccolo, per fuori del bar, un piccolo classifico a Mandela Pai, e questo risultato, risultato, perché le beghiò delle vattornenze, che hanno fatto il primo recul, quindi mi mando a riponare i rappresentanti dei beghiò delle vattornenze a venire sul palco. Ecco, Allora, e quello, gli hanno portato un pièce, che si mandova tette a tette, e ci hanno fatto un pozzo di zucchero, il combattere sul ring, tipo Rocky Balboa, e alla pièce qui è scritto per Alessandro Castellano, un gruppo battamento con Alessandro Castellano, l'auteur della pièce. E poi l'altra compagnia che è stata prima, è la Torre di Babel, un gruppo misto che ha portato un pièce che si manda l'ACA, e un pièce scritta per un viello attore della federazione che è stato richiesto per la vita, mi ha detto che è poco. Ecco, l'auteur di Babel è già, e non c'è la presenza di un attore, è un po' troppo che si sono fatto, ma comunque è un po' troppo, è un po' troppo, ma è un po' troppo, è un po' troppo, ma è un po' troppo, ma è un po' troppo. E poi, per finirei, mandare la trigia e la compagnie, le Gantalei di Val Grisens. Grazie. Applausi. 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 L'Oraway e abbiamo portato un pièce che si mandava le feyane di Plonta che volia, voliai raccordi un concchio di un picchio bersag che faceva un po' con il e racconti un po' troppo. E alla piacere è scritta per Margherita Angeli e Laura Gerbel. Applausi. Sono ancora le attrissi, non? Applausi. 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 E voilà. Il prie Maggi continua con questa edizione tornando a valorizzare tutte le pièce che venneranno portando sul palco e spero che con l'enchezza avviciniamo a tornare un buon pièce da due di premiazione perché in buon è un po' di più e almeno alla fine è un po' di gente va bene la foto ha portato il pallone ha portato il pallone ha portato il pallone voilà merci merci a voi e continuiamo poi